La parzelletta di Geppo 14 settembre 2020 primo giorno di scuola con le nuove diciamo regole anti-covid bene no? mo verso mezzogiorno squilla al telefono al signore in ufficio risponde fa pronto? e il figlio dall'altra parte gli fa papà scusami che mi puoi venire a prendere a scuola oggi? e lui gli fa no piccolo oggi non riesco mi spiace ho una riunione di lavoro ah vabbè tranquillo torno col banco ah 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 ah